Ecco, cosa dice il Premier? È una idea che stiamo cercando di migliorare, che è piaciuta a tutti, quindi probabilmente vorrebbero fare qualcos'altro. Io ripeto, non so quanti paesi non ci sono in Europa, l'Inghilterra è fuori dalla comunità europea, oppure forse la Macedonia o il Montenegro. No, no? Allora, cos'è successo? È successo che per portare 18, 26, 18 migranti nel porto di questa città albanese ci abbiamo mandato una nave e dovete sapere che il costo di questa operazione è di circa 200.000 euro. Io poi non capisco perché non hanno preso un aereo che magari con 20.000 euro, un aereo a elica, un DASH o anche un Envoyer, di quelle che si parla tanto, che devono andare a Comiso, ci mettevano questi 18 migranti, 4 poliziotti e li mandavano dall'altra parte. No, c'è voluta una nave. Ma sapete qual è la cosa bella? L'avrete sentito senza dubbio. Che 4 sono tornati indietro. 2 perché improvvisamente si sono dichiarati minorenni, perché non ci possono andare minorenni. E 2 si sono dichiarati soggetti fragili. Cioè magari hanno detto di essere un po' pazzi di essere... e si sono dichiarati soggetti disagiati. Che vuol dire? Che chiaramente là, non sapendo che pesci prendere, diceva come questo è minorenne. E mettendo che fosse minorenne davvero, certo se ne sarebbe dovuto accorgere prima di farli salire sulla nave, no? Probabilmente qualcuno gli avrà detto a questi, se dire che siete minorenni non vi lasciano lì. Quindi questi, tanto chi li controlla, hanno detto siamo minorenni. Allora grande confusione. Mentre la nave era partita, se ne aveva girato e se ne stava tornando in Italia. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso un gommone di quelli che utilizzavano i contrabbandieri, quelli che viaggiano a 80 km l'ora sul mare, ci hanno salito questi 4 migranti che sono di condizione diversa e hanno raggiunto la nave. Hanno raggiunto la nave e sono tornati in Italia. Quindi abbiamo speso 200 mila euro per portare 18, di cui 4 erano finti, li abbiamo riportati indietro. E quindi, allora voglio dire, certo sono cose che accadono, ma la nave se tu ci porti 400 persone, ma se ce ne porti 18, ma ragazzi, ma perché poi il problema è che hanno un costo. E ha un costo anche tutto il mantenimento di quella struttura, perché quando ci porti 18 persone, è uguale come se ce ne avessi 300, ci vogliono le guardie, certo mangiano meno, non c'è dubbio, ma ci vuole tutta una realtà, tutta intorno, che è particolarmente costosa. Dice, ma lì costa anche meno. Sapete, si fa la pubblicità che in Albania mangi, fai vedere lo scontrino, che ti fa impressione di quanto costa poco. E sarà anche vero, no? Sarà anche vero. Ma è chiaro che bisognerà capire quanto costa ogni giorno in una struttura del genere. È giusto o non è giusto? Allora, le opposizioni hanno detto che si tratta di deportazione, che si tratta di tenere la gente arrestata e chiusa. Dall'altra parte dicono, però, questo fenomeno è troppo preoccupante per noi, io l'ho già detto, è troppo preoccupante se non si pone delle regole e non si fanno delle regole precise per poter continuare a vivere tranquillamente tutti insieme, come succede in altri paesi, per arrivare all'integrazione migliore. Il problema è anche però che l'ultima indagine Istat ha detto che il 10% degli italiani è sotto la soglia della povertà. Quindi 6 milioni di italiani sono davvero sotto la soglia della povertà. Ma si arrabbattano, no? In qualche modo riescono. Poi è anche vero che essere sotto la soglia della povertà a Ragusa è diverso che esserla a Milano o a Comis o a Dacate è diverso di essere a Rozzano o a Cuneo o a Ivrea. Però non c'è dubbio, non c'è dubbio, che i numeri sono impressionanti. Tanto è vero che addirittura, ora, l'Istat dice che quasi 2 milioni e mezzo di italiani sono a zero. Sono a zero, soprattutto quelli che hanno in famiglia persone di altra nazionalità, non dell'Europa. Quindi il 5% quasi degli italiani non riesce a mangiare ogni giorno per arrivare alla fine. è un segnale, si deve fare qualcosa come l'ho detto anche per il sindaco quando a scuola qualcuno gli ha detto ma sai, tanti di questi genitori non hanno nulla si può fare qualcosa. Io non so se il sindaco ha capito che c'è bisogno di aiuto. Non so se la Meloni lo capisce e dice, ah ma noi abbiamo il reddito di cittadinanza allora che possiamo fare? Sì, ma quando 2 milioni e mezzo di italiani italiani non riescono a mangiare non è una bella cosa. Soprattutto perché, come ho detto più volte c'è questa forbice paurosa un alto dirigente di un comune scazzapagliaro prende 150 mila euro l'anno quindi quasi 10 mila euro al mese mentre poi c'è gente che piglia cioè 400 euro al mese e fa 12 ore di lavoro e lo deve fare per forza perché se no non riesce neanche a comprare un tozzo di pane c'è un organismo che può fare questi controlli a parte i sindacati ma c'è un organismo istituito dal comune per esempio il comune potrebbe istituire invece di fare senza offesa la sagra e cose potrebbe instaurare un ufficio che faccia questi controlli con i servizi sociali a vedere quale condizioni ci sono a Ragusa non lo so se è possibile vediamo questo brevissimo servizio su questi 2 milioni e passa di italiani che non mangiano grazie a tutti